Stamattina erano 25 le bare accatastate all'interno delle camere mortuari del cimitero Farello. Rispetto alla situazione di ieri, circa una decina hanno trovato sistemazione nei loculi reperiti dall'amministrazione. Per gli altri feretri però l'attesa potrebbe essere ancora lunga, sicuramente almeno fino a inizio dicembre, quando, come annunciato ieri, dovrebbero essere consegnati gli 80 loculi prefabbricati situati nella zona nord del cimitero. Questa mattina il sindaco Lucio Greco si è recato presso Farello per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. Noi stiamo lavorando in emergenza per fare quando è necessario e prima possibile per dare una degna sepoltura ai nostri defunti. Questo è l'impegno, questo è il lavoro che stiamo portando avanti incessantemente. Posso dire che nei primi di dicembre, completato questo blocco di 80 loculi, finalmente credo che entreremo al regime. Supereremo la fase emergenziale, stiamo lavorando per trovare le giuste soluzioni anche a medio e a lungo tempo, in maniera tale da superare definitivamente questa, ripeto, vergogna di arrivare al punto di non avere loculi e dare una degna sepoltura ai nostri fratelli, ai nostri concittadini. Questo è l'impegno che mi sento di assumere e continuerò a lavorare assieme a tutta l'amministrazione e ai dipendenti comunali perché si superi una volta per sempre questa vergogna. Nel frattempo, per far fronte all'emergenza, anche nel lungo periodo, l'amministrazione sta lavorando a un censimento dei loculi nei due cimiteri cittadini e sta cercando di accelerare sulla progettazione esecutiva per la realizzazione degli 840 loculi comunali già finanziati. Non è un caso che abbiamo confermato l'incarico al progettista per completare il lavoro del progetto esecutivo degli 840 loculi e questo credo che entro aprile-maggio del 2021 si dovrebbe completare e si inizierà il lavoro per questi 840. Nel contempo non escludiamo di realizzare altri blocchi per altri loculi da realizzare qui. Nel contempo ho disposto un censimento serio, reale, rigoroso e concreto per quello che riguarda altri loculi anche al cimitero monumentale. Stiamo lavorando a 360 gradi per superare definitivamente questa emergenza e questa criticità o meglio dire questa vergogna che si porta avanti da diversi anni e che abbiamo ereditato. Ma l'impegno di questa amministrazione è quello di lavorare incessantemente sulle politiche cimiteriali in maniera tale da trovare idonee soluzioni.